Il Vescovo della Diocesi di Tegiano Policastro, padre Antonio De Luca, ha elevato a Santuario Diocesano la cappella del Santo Crocifisso a San Pietro al Tanagro. Una notizia molto attesa nella comunità, quest'anno inoltre ricorre il 120esimo anniversario dell'edificazione della cappella e dell'istituzione della festività del Santissimo Crocifisso. Con decreto episcopale dello scorso 2 agosto, dopo la richiesta presentata alla Curia Vescovile di Tegiano da Don Francesco Maltempo, parroco del paese, il Vescovo De Luca ha riconosciuto alla cappella situata sul Monte Ausiliatrice, da tutti conosciuto come Monte del Crocifisso, il titolo di Santuario Diocesano. In occasione dei festeggiamenti religiosi e civili per la festa del Santissimo Crocifisso in programma domani 14 e domenica 15 settembre, sono tantissimi gli appuntamenti religiosi e civili. Sabato 14 settembre, dopo la Santa Messa sul Monte alla presenza del sindaco di San Pietro al Tanagro, domenico 40, Don Luigi Terranova leggerà il decreto vescovile di riconoscimento alla cappella del Santissimo Crocifisso a Santuario Diocesano. Stessa cosa verrà fatta domenica 15 settembre nella Chiesa Madre, dopo la Santa Messa celebrata dal parroco Don Franco Maltempo. Domani pomeriggio alle ore 18 e 30, nella rotonda di Piazza Erico 40, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio La Tiara, il premio organizzato dal Proloco su impulso del Comune di San Pietro al Tanagro, con l'intento di sottolineare ed esaltare le potenzialità di coloro che abitano e vivono il paese e i percorsi di sviluppo intrapresi, i risultati positivi conseguiti sia in campo sociale che economico, culturale e sportivo. Grande attesa per i premiati, Pietro Spinelli, Simona D'Alessio, Nicola Spinelli e l'associazione sportiva Ciclo Team Tanagro, che riceveranno il riconoscimento sotto la maestosità del campanile della Chiesa Madre, appositamente illuminato per l'occasione. Intanto oggi pomeriggio, sempre a San Pietro al Tanagro alle 18, nel Salone dei Convegni del Comune, verrà presentato il libro Il Catasto Onciario del Comune di San Pietro al Tanagro, scritto dal sindaco Domenico 40. Il volume è stato presentato nel mese di maggio anche durante il Salone del Libro di Torino.